Alicia Silverstone Alicia Silverstone, San Francisco, 4 ottobre 1976, è un'attrice statunitense Biografia Nasce in California da Monty Silverstone, un'agente immobiliare inglese di origine ebraica, e da Deirdre Radford, un'hostess scozzese della Pan American World Heroes, convertitasi all'ebraismo prima del matrimonio A soli sei anni inizia la carriera di modella e partecipa ad alcuni spot televisivi Nel 1993 ottiene una parte nel film La Ragazza della Porta Accanto, grazie alla quale vince due MTV Movie Awards 1994 In seguito è protagonista di alcuni videoclip degli Aerosmith, Crane Apostrofo, Crazy Amazing Nel 1995 recita la parte di Cher nel film Ragazze a Beverly Hills, una rilettura in chiave moderna del romanzo di Jane Austen Emma, e interpreta successivamente la supereroina Beverly in Batman e Robin del 1997 Partecipa anche al film Pene d'amor perduti di Kenneth Branagh Nonostante al tempo fosse considerata una delle attrici più promettenti di Hollywood, verso la fine degli anni 1990 la sua carriera subisce una brusca frenata dovuta al suo sparire dalle scene Punt torna del 2003 come protagonista della serie televisiva Miss Match al fianco di Ryan O'Neill, tuttavia sospesa dopo 13 episodi per lo scarso successo Nel 2004 recita in Scooby-Doo 2, mostri scatenati e l'anno seguente in Beauty Shop con Queen Latifah Nella classifica stilata nel 2009 delle 50 persone più sexy degli anni 1990, si è posizionata al quinto posto Vita privata Alicia Silverstone è conosciuta anche per le sue idee nei confronti dei diritti degli animali e per essere vegana, tanto che nel 2004 è stata votata dalla PETA come la vegetariana più sexy Dopo otto anni di frequentazione, si sposa con Christopher Gerky l'11 giugno 2005, divorziano nel novembre 2018. Nel maggio 2011 dà alla luce suo figlio, Bear Blue Gerky Filmografia Cinema Televisione Doppiatrici italiane Note Altri progetti Collegamenti esterni